Siracusa, aggredito da una sciama di vespe, muore un 82enne per sciocca anafilattica. Non ce l'ha fatta un 82enne che, mentre si trovava nel suo fondo agricolo, all'improvviso si è imbattuto in un alveare di dimensioni consistenti. L'uomo è morto per le punture degli insetti che lo hanno assalito. È successo a Floridia, al confine con Belvedere, a perdere la vita, Gaetano Tiralongo, 82enne pensionato floridiano, vittima di uno sciocca anafilattico che ha reso inutili i tentativi dei soccorritori di Stappalla alla morte. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino, poco dopo che l'anziano era giunto nel suo fondo agricolo di via Anchise. Mimetizzato tra rami e sterpaglie, non era di facile avvistamento e la vittima si è avvicinata troppo, quel tanto che è bastato per far scattare la rappresaglia di una sciama impazzita che lo ha letteralmente preso d'assalto. Quasi del tutto ricoperto dagli insetti, l'uomo ha tentato in vano di divincolarsi delle vespe che l'hanno punto in più parti del corpo. L'uomo avrebbe chiesto aiuto ma nella sua proprietà non c'era nessuno, l'unico ad accorgersi del pensionato sarebbe stato un vicino che avrebbe sentito le sue grida. Si sarebbe precipitato nel tentativo di prestare il primo soccorso e ha telefonato al 118. Frattanto le condizioni dell'82enne stavano sensibilmente peggiorando, causandogli uno shock analfilattico, per lui non c'è stato niente da fare.